Spidi Pollo a Cava dei Tirreni è il luogo ideale per soddisfare tutti i gusti. Vi aspettiamo! Monica Sarnelli questa sera a partire dalle 21 delizierà i telespettatori di Radio Play Tag ed RTC Quartarete con la sua voce potente e matura e con le sue canzoni che l'hanno resa nota a molti appassionati. Napoli a colori è lo speciale musicale che vedrà la Sarnelli esibirsi in una sorta di concerto nel quale eseguirà vari brani da Un posto al sole a Effemmena, passando perché stasera. Peraltro il 2021 è un anno davvero particolare per la cantante napoletana. È il quarantesimo anno di attività per Monica Sarnelli e inoltre il 21 ottobre 2021 cadrà il venticinquesimo anno dalla prima puntata della soap opera Un posto al sole, la cui colonna sonora è cantata proprio da lei. Perciò non perdetevi Napoli a colori, stasera alle ore 21 su Radio Play Tag ed RTC Quartarete con la conduzione di Chiara Gaeta e Valentino Di Domenico. Grazie.